Salve ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di Naruto, Shippuden, Ultimate, Ninja, Storm, 4, 5, 6, 7, 8 Allora, facciamo il prossimo episodio, la via della separazione, sogni e coesistenza Tempo di gioco stimato a 7 minuti, va bene Cioè in pratica Shirama ci dovrebbe spiegare come si è successa la cosa del villaggio C'è la disputa tra lui e Madara, credo Tu eri davvero una strana, però... Cosa era ora? Una scuola per i bambini? Una villaggio per i vostri fratelli? Hm... Recordo di pensare che hai alcuni grandi plani per un piccolo figlio Oh? Cosa? Ma non erano i miei sogni, erano i miei Cosa è per il motivo che sto con te oggi Sì Il villaggio di gioco Il villaggio di gioco Il villaggio è stato precioso per me E io devo protegere Quindi, hai pensato di pensare delle mie idee di Hokage? Cosa? Tu stai seri serio su questo Io pensavo che stai prendendo la mia legge Cosa? Non, ero seri seri serio Tu sarai perfetto per la posizione Tu sarai il leader del villaggio e guidi tutti i suoi E sarai un modello del tuo viso nel clifo qui, come un emblema del villaggio Hey, non ho mai accettato con questo, non è il mio stile Non è solo per te Il più sbagliato che sei, il meglio Tu stai cercando di torturmi qui, non? Ahahahah In effetti erano amici A Shirama e Madara Un po' come Naruto e Sasuke Amici e poi Si sa com'è andata a finire Con Naruto e Sasuke Io ancora credo che tu sarai un migliore Hokage che io Sì Certo, era una decisione democratica I vittori hanno chiesto a te Tu sei i Hokage Madara Questa stona Questa stona Questa stona è stata passata durante generazioni del clan Uchiha Si può essere decifichata solo da quelli con capacità speciale Questa stona Questa stona Questa stona Questa stona Di questo Questa stona Cosa condita Questa stona Del؟ Mettere Sembra che Madara sia un po' adirato per il fatto che Hashirama sia diventato Kage eletto dal popolo. Come un fratello, le persone vanno presto a te vedere per quello che sei, e quando fanno, tu puoi essere il secondo Hokage. Devo pensare che Tobirama sarà il vostro successo. Se questo succede, il mio clan sarà scoperto. Ho cercato di warnare gli altri Uchiha del rischio e riuscire a lasciare il villaggio. Cioè, Madara aveva previsto già chi sarebbe stato il secondo Hokage. Certo. 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 È dal lì. Credo che cominci... cominci a... cominciare. Cominciò, tutto. Ecco, in pratica Madara è tornato però con altre intenzioni. Cosa faremo? Okage! Qual è il significato di questo? Perché... Madara, abbiamo creato questo posto insieme, tu e io. Perché? Non fa sentido. Non posso capirci ancora. Non posso capirci. Io non ho capito una cosa, ma... Dico dopo. ... 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 Sì, è vero, dovremmo arrivare alla battaglia così presto. No, c'è qualcosa che bisogna fare prima. Possiamo andare alla battaglia. Ma io sono dubbio se dovremmo prendere questa parte con noi. Cosa significa? Cosa significa? Cioè, se ci saranno sotto i nostri piedi, dovresti solo rimanere. È così che ci vediamo, non è? Non tu, Orojimaru. Sei bene. Ma gli altri... Quindi perché non li mettiamo alla testa? Io intendo. Ecco, ci stanno mettendo alla prova. Giustamente tranne Orojimaru, che è uno dei tre ninja leggendari, Orojimaru. Quindi è deciso. Sasuke, Jugo, e... Suigetsu. Show them what you can do. Whaaat? Cosa io? Karin è un healer. Voi te sono gli specialisti combattanti, non? E dove è questo testo per prendere? Sicuramente non qui. Non sei ridicoloso. Andremo al posto che Hashirama e io avevamo usato per trainare. Mi sembra che Orojimaru era con, mi pare, Jiraiya e Tsunade. I tre ninja leggendari, credo. Se hai fallito di impiegare a noi... Siamo salvati le esplorazioni. Allora facciamo questo. Ehi, ehi! Stai a metterli alla prova! Ha, ha, mi sembra. Non abbiamo tanto tempo. Oh, impressionante. Stai a metterli alla prova. Stai a metterli alla prova. Stai a metterli alla prova. Vai che ce la metteremo tutta. E mi raccomando, Ivan, occhio ai quick time. Sconfiggi i primi Okage. Eh, si, vabbè. Una parola. Ci proveremo. Let's go. Oh crap, non credo che sto facendo questo. Oh! Forca miseria! Ha fatto la mossa. Stai a metter. What's the matter, Lord Hashirama? I just never thought I'd get another chance to fight together with you. I can't help but smile. You really never change. Although I must admit, my heart is pounding in my chest. Ha, 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 ha. I bet it is. Come on? Come on, I'm up. Let's go. Come on. Let's go. Come on. Come on, Mini Ju. no merced ok 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 passiamo significa che abbiamo anche se passiamo in la guerra se passiamo 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 sembra questo sentimento ora vediamo cosa hai occhio occhio quick time attenzione attenzione ma dai non c'è il giusto però io sono svantaggiato così sai che non si fa battere da nessuno vai cazzo che non si fa battere da nessuno vai cazzo ora è il momento è il caso che va aiuto Non c'è il combattimento Non c'è il Vai 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 mamma mia Che potenza Mamma mia Fattore segreto Mamma mia Naruto Mamma mia che potente Ma così l'ha ucciso No? B Eh vabbè che palle Mamma mia che scontri Ah è vivo allora Shirama Sì Come faremo? Mi immagino che Madara Sarebbe sorpreso Per vedere Tanto un ninja potente arrivare In altre parole Mi credo Questo significa che hai passato Sì Admito che sei più forte Che cosa ho immaginato Wow Now then The other group is waiting Back to the village Back to the village E qui c'è Minato Erojimaru E Karin Scusi 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 Va bene Al prossimo episodio Ciao Ciao